Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco e dei Marinai. I festeggiamenti in suo onore, che culminano nella giornata del 4 dicembre, sono stati celebrati ieri in Riva allo Stretto. L'Arcivescovo della Diocesi del Gio Calabria Bova, sua eminenza Monsignor Vittorio Mondello, ha per l'occasione celebrato la Santa Messe presso la Chiesa di San Giorgio al Corso, alla presenza del Direttore Marittimo, Comandante di Vascello Vincenzo De Luca, del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, l'Ingegnere Emanuele Franculli, unitamente alle altre massime autorità civili e militari, il colonnello Pasquale Angelo Santo, Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, il colonnello Cosimo Di Gesù al Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Reggio Calabria e il sindaco di Reggio Demetrio Arena. Esposizioni di mezzi di soccorso e di altre attrezzature hanno poi arricchito il tratto di Corso Garibaldi, una giornata di festa che rinsalda il legame con la comunità al servizio della quale si opera ogni giorno, ma anche una giornata di preghiera e affidamento per quanti rischiano ogni giorno la propria vita al servizio della difesa civile e della vita del prossimo e di quanti solcano il mare, rappresentando ed operando per la patria, adunque i Vigili del Fuoco e i marinai, in particolare numerose le delegazioni di spiaggia di Calabria e Basilicata di questi ultimi. Ci fu un tempo in cui la giovane Barbara, nata a Nicomedia di Bitina nell'antica assia minore del 217 d.C., le cui reliquie sono conservate nella provincia di Rieti, non rimase arsa dalle fiamme. E' la storia del culto cristiano della Vergine e Martire Santa Barbara, che si ribellò alla volontà paterna di sposarsi e per la sua fede cristiana venne rinchiusa in cella. In quella fortezza divampò un incendio, dalle cui fiamme però uscì viva. Ma la morte arrivò ugualmente, non a causa del fuoco, ma sempre per volontà del padre di Oscoro. La giovane infatti non voleva ripudiare la religione pagana e pertanto fu decapitata su ordine del padre, poi trafitto da un fulmine. Dunque per il suo coraggio, la sua storia venne individuata nel 1940 come la matrice del culto che l'eleva oggi a protettrice dei vigili del fuoco e dei marinai, oltre che degli artiglieri.